fanno politica e scelgono partiti, in sostanza. La domanda è vero, è vero in parte, come si può fare per contrastare questa accusa? Vogliamo raccogliere qualche domanda? Raccogliamo perché talvolta le risposte per l'esperienza possono soddisfare più domande. Quindi questa è la prima. Forse è meglio a questo punto che diamo il microfono a chi vuol parlare. Grazie.